Fortunato è chi apprende dai propri errori, fortunato è chi apprende dagli errori degli altri. Dal mio piccolo laboratorio condivido con te la mia passione. Passo dopo passo insieme amplieremo le nostre conoscenze di questo bellissimo mestiere. La passione per la falegnameria, l'emozione di vedere quello che sono in grado di realizzare nelle nostre mani usando l'ingegno. Non sono l'unico e tantomeno il migliore. Condivido con te le mie esperienze. Ti invito ad iscriverti al mio canale, perché il mio canale è il tuo canale e insieme possiamo crescere e migliorare progetto dopo progetto. Grazie. Grazie. Grazie.